Sì, purtroppo c'è stato questo problema, noi abbiamo dovuto sospendere tutte le attività, i campionati sono stati sospesi, per cui è stato un brutto colpo. Non abbiamo potuto salutare le ragazze, non c'è stato un arrivederci, per cui anche per le ragazzine più piccole degli under non è stata una bella situazione effettivamente. Segnali di ripresa, gli sport di contatto stanno per ripartire lunedì, però ci sono altri problemi che in futuro potranno tenere banco? Certo, ci sono delle procedure da seguire comunque, per gli sport di squadra effettivamente la situazione è più complicata, nel senso che gli sport individuali effettivamente sono più facili da gestire, gli sport di squadra prevedono un contatto tra le ragazze, con il pallone stesso. Per adesso, certo, le indicazioni della federazione sono difficilmente attuabili, soprattutto nei campionati giovanili, secondo me. Rimane anche il problema, permane quello delle strutture scolastiche e comunali. Secondo Lucia Iannuzzi la situazione come sarà? Per adesso dobbiamo sperare nel buon cuore dei dirigenti scolastici che ci diano le palestre. Purtroppo la responsabilità per adesso ricade o sui dirigenti o sui presidenti delle società stesse. Sai, per i minori la situazione è un po' più complicata effettivamente e quindi si vedrà, diciamo, è tutto un divenire. Diciamo che il grado di responsabilità cresce. Certo, certo, ci sono anche tante attenzioni da tenere, la sanificazione dei luoghi, dei palloni, delle attrezzature. Comunque non possono entrare persone esterne ovviamente in palestra, quindi dobbiamo tenere le distanze anche da queste situazioni. Molte procedure. Diciamo che il coronavirus rischia di ammazzare gli sport sia di squadra e sia anche le piccole realtà sportive irpine. Sì, per gli sport è una situazione difficile, purtroppo c'è la competizione, lo sport vive di competizione. Se non si possono fare dei campionati non ha più senso neanche allenarsi. Ecco.